Benvenuti a Tavola è un programma presentato da Panificio Andy Accesio Maggiore Buon mercoledì, benvenuti a Tavola, benvenuto Dino Ciao Giorgia Chef titolare del ristorante Bite All'Arte San Gregorio nelle Alpi e grazie anche a Gioric Sedico, location di questa edizione 2016-2017 di Benvenuti a Tavola Ricordiamo che l'edizione prevede tutte le ricette dolci e salate rigorosamente in forno Oggi Dino cosa prepariamo? Allora oggi faremo una zoppa di cipolle e mele gratinata al forno con del formaggio gruviera Ok, diamo subito gli ingredienti Allora abbiamo mele delicious Cipolle bianche Crostini di pane tostato Del gruviera grattugiato Brodo vegetale burro Allora, iniziamo subito ad affettare finemente le cipolle Con una grattugia a fori grossi La grattugiamo Perfetto E questo è il nostro risultato Abbiamo del burro Mettiamo su una padella E amalgamiamo E amalgamiamo tutto sul fuoco Ok, questo è quello che otterrete Questo è quello che abbiamo ottenuto Va bene Poi che dobbiamo fare ancora? Adesso dobbiamo prendere una bella scudella La classica scudella per la zuppa di cipolle Quindi una cocottina Una cocottina, esatto Ormai in casa abbiamo tutte Anche perché insomma la cucina da un po' di anni a questa parte è diventata veramente presente in tutte le salsa, in televisione, in radio, in giornali Mi sono dimenticato di dire che passati i 20 minuti di cottura lenta della nostra cipolla, delle nostre mele, ci mettiamo del burro vegetale Ok Allora al risultato, a questo acquisito ci mettiamo il crostino di pane tostato e il nostro bel gruviere grattugiato Perfetto Per riscaldare il forno immagino Noi questo mettiamo il forno molto caldo Quanti gradi? A 200 gradi Perché questo deve far soltanto sciogliere il nostro formaggio perché è già calda la zuppa che abbiamo appena tolta Ah ok Sì E quanti minuti? A un 6-7 minuti al massimo Ok E andiamo in forno Prego Per fare un buon panettone ci vogliono due giorni di lavoro, la pasta madre, i prodotti genuini, la cioccolata, l'uvetta, i frutti di bosco, la glassa e la cottura in un forno di pietra Questo Natale scegliete i panettoni del panificio Envy a Cesio Maggiore e li potete trovare in tanti punti vendita di alimentari della provincia Panificio Envy Contattateci allo 0439 43023 Sono passati pochi minuti, prego Dino E avanti con il forno caldissimo C'è un profumo in questa stanza incredibile Anche qua una ricetta semplicissima da fare rigorosamente in forno Wow Ci mettiamo Dopo ci mettiamo per richiamare gli ingredienti di questa tazza Un anello di cipolla fritta Ah però E una riduzione di prezzemolo Ok E questa è la nostra creatura signori Noi ci rivediamo domani alla stessa ora e naturalmente benvenuti a tavola Benvenuti a tavola è stato offerto da Panificio Envy a Cesio Maggiore Ma diciamo Quindi Grazie.